Annunci promesse date non rispettate. Sulla riapertura parziale del viadotto Can Salamone, il Movimento 5 Stelle di Sciacca chiede un'operazione verità all'amministrazione comunale e in particolare all'assessore Giuseppe Neri. Sono trascorsi oltre 60 giorni dall'ultima volta che si sono avute notizie. Riteniamo fondamentale, scrivono, informare i cittadini di Sciacca sulla prospettata riapertura del ponte al transito veicolare e anche sul progetto di sistemazione definitiva del viadotto. Finora giungono è stato un susseguirsi di date, sin dall'impegno assunto al momento dell'insediamento dalla Giunta Valenti che aveva comunicato di aver affidato a una società di ingegneria l'incarico per la predisposizione di un parere tecnico sulla possibile riapertura del ponte a senso unico alternato con l'eventuale esecuzione di interventi minori per un massimo di 20.000 euro escludendo il transito ai mezzi pesanti. Era stata annunciata l'eventuale riapertura entro marzo 2018. Poi si è appreso che i sondaggi effettuati dall'impresa non avrebbero fatto emergere la sussistenza di particolari controindicazioni ed era stata prospettata una riapertura prima dell'estate. Siamo a fine giugno e il ponte Cansalamone è ancora chiuso dicono i 5 Stelle che a questo punto ritengono necessario essere chiari e dire a secenzi al netto degli annunci evidentemente infondati dei mesi scorsi la data credibile per la riapertura del viadotto posto che questa soluzione sia perseguibile. Movimento 5 Stelle che però sollecita altrettanta chiarezza anche in relazione all'esecuzione dell'intervento per la stabilità del viadotto e dunque alla soluzione definitiva dei problemi. Risale infatti al dicembre 2017 la notifica al comune del decreto di finanziamento di poco meno di 3 milioni di euro destinati a tale intervento. Sappiamo, sostengono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che il progetto preliminare redatto del Genio Civile di Egrigento è stato approvato in conferenza di servizi cui ha preso parte anche l'assessore Neri, ma poi più nulla. Amministrazione che sul progetto di sistemazione del ponte Cansalamone viene sollecitata a chiarire se la progettazione esecutiva è stata ultimata, se è stata individuata la ditta appaltatrice dei lavori e in tal caso data di inizio e di conclusione dell'intervento.